Un nuovo spazio dedicato alla cultura che viene restituito alla città è la sacristia del complesso monumentale di San Severo al Pendino a Via Duomo che dopo oltre 13 anni di chiusura riapre riqualificata ed ospiterà concerti della tradizione musicale partenopea. L'iniziativa si chiama Music City Hall e nasce per volontà dell'assessorato alla cultura e turismo del comune impegnato nel potenziamento dell'offerta turistica cittadina anche attraverso la riapertura e valorizzazione di diversi siti culturali. Siamo molto orgogliosi di avere restituito alla città dopo 13 anni questo spazio così bello e accogliente in un luogo così significativo tra i più importanti dal punto di vista culturale, storico, artistico e turistico della nostra città come Via Duomo e offriamo ai turisti attraverso i primi vincitori di questa manifestazione di interesse una proposta musicale fatta di grandissimi professionisti di altissima qualità e quindi insieme alla Casina Pompeana e insieme allo spazio che i giovani hanno aperto alla Galleria Principe di fronte al museo la canzone classica napoletana, la musica classica napoletana ai suoi spazi per offrissi ai turisti. Dal prossimo 2 giugno fino al 29 luglio ogni venerdì e sabato con spettacoli alle 11.30, 16.30 e 17.30 nella Sacrestia della Chiesa andrà in scena un vasto programma di concerti dedicati alla musica classica napoletana dal 500 al 900, passando per quella barocca e l'arte della posteggia un'offerta culturale di alto livello alla quale hanno lavorato l'Accademia Mandolinistica Napoletana e le associazioni Arte Area, MB Concerti e Musica Podimonte selezionate dal Comune tramite manifestazione di interesse. Speriamo molto che adesso gli operatori, gli albergatori, insomma tutti coloro che si occupano di turismo a Napoli piuttosto che lamentarsi che a Napoli non c'è l'offerta della canzone e della musica classica napoletana adesso si diano da fare per portare i turisti e farli incontrare con questo patrimonio universale della cultura e dell'arte di Napoli.